Sono rimasto chiuso nell'ascensore per 25 minuti. Prima di tutto devo scusarmi del ritardo, ma è stato un incidente. Sono rimasto chiuso nell'ascensore per 25 minuti. È stato un callo di tensione e si è fermato l'ascensore. Grazie a Dio sono venuti i vigili del fuoco, ringrazio tanto a loro e dopo 25 minuti di lavoro sono riuscito a farlo andare. Un applauso ai vigili del fuoco!